stiamo con una preghiera restituta dal Padre Alessio restituta dal Padre Alessio grazie bene benvenuti benvenuti Carmelo Pandolfi mi conoscete l'ordine in questo pomeriggio monachessimo italo greco non soltanto il monachessimo ma anche la cultura italo greca è il seguente quindi lo osserviamo siamo a Roma Roma è la patria dello IUS del diritto saluto introduttivo da parte del nostro lettore il Padre Cosè Enrico Iarsum regionale di Cristo che ringrazio per la per l'ospitalità eh per la sua presenza autorevole poi dirò qualche cosa io poi ci sarà un breve video poi la parola agli amici professor Diego Celi ma li presenterò successivamente il professor Raffaele Manduca dottor Renzo Basso che hanno curato il libro l'ultimo romito che parla del carissimo Padre Alessio ma dirò poi e poi d'ucisi in fondo la parola al padre Alessio Mandanicotis l'archimandrita Alessio Mandanicotis che è remita a Santa Lucia del Mela in provincia di Messina e che è stato insignito del grande angelico abito da parte del metropolita Policarpo e poi far riferimento a sua santità il patriarca Bartolomeo di Costantinopoli quindi la palaia Rome la palea Romi per dirla la bizantina l'antica Roma qui e la Nea Romi la nuova Roma sapete che Istanbul è un nome non turco ma è greco perché alla domanda dove vai la risposta era Eastin Bolin Easten Polin Eo Urbem quindi veramente sono addirittura commosso oggi poi vi dirò ma la parola e lo ringrazio al padre Cosè Enrico Iersum che è il nostro rettore grazie padre grazie professore innanzitutto buonasera benvenuti a tutti è un piacere rivolgervi un saluto come rettore di questo di questo Ateneo Pontificio e un vivo ringraziamento un saluto agli autori di questo libro l'ultimo romitto l'ecomunismo incompiuto che oggi abbiamo l'onore di di presentare in questa nostra istituzione inoltre rivolgo un saluto e un ringraziamento al professor Carmelo Pandolfi perché è stato lui il promotore di questa iniziativa che ci ha coinvolto un po' tutti e grazie anche alla sua iniziativa siamo qua in questo momento e in questo incontro certamente non può mancare il mio più personale anche speciale saluto a nome della comunità accademica al padre Alessio archimandrita dell'eremo di Santa Maria della del Mella Messina insignito anche da grande angelico abito di sua eminenza Policarpo come ci ha ricordato precedentemente il professor Pandolfi. Il mio saluto è molto breve io vorrei sottolineare tre motivi di gioia diciamo che per questo incontro. Una prima ragione è ovviamente motivo ecumenico che come ho spiegato in diversi momenti in diversi modi San Giovanni Paolo II deve essere portato avanti come dialogo nella fede e nella carità e certamente nella fede in Cristo. La seconda ragione è un secondo motivo è spirituale anche perché il monachesimo in genere quello orientale cristiano in particolare ci incoraggia a tutti noi cristiani alla radicalità della professione di fede nel seguimento di Cristo via verità e vita. Un incoraggiamento che è per tutti noi questi monaci che diventano anche testimonianza ed un invito a guardare nell'aldilà e soprattutto a guardare Cristo. Terzo luogo questo Ateneo è una istituzione pontificia romana e lieto di promuovere studi incontri storici culturali e spirituali che riguardano il pensiero cristiano in modo allargato in particolare oggi ci si presenta come occasione per evidenziare io direi che la bellezza la fecondità della cultura italo greca con il suo cuore monastico questo senso è una grande opportunità anche spirituale direi è un invito spirituale a questo questo incontro. L'ecumenismo è padre Alessio è autore di studi originali su almeno un centinaio di monaci italo-greci testimoniati dalla storia il suo studio è anch'esso vivo per tutti noi un invito. L'ecumenismo poi è un compito di tutti i fedeli per tutti i fedeli cristiani siamo qui appunto per omaggiare tale compito ma non dobbiamo dimenticare che l'ecumenismo è anche un dono di Dio che dobbiamo chiedere costantemente un dono che viene dal suo amore dal suo cuore in questo mese che noi dedichiamo al sagro cuore un momento importante anche per chiedere al cuore di Gesù che ci aiuta a portare avanti questo segno d'amore che è l'ecumenismo. Voglio finire rivolgendo una speciale preghiera e chiedere l'intercessione a Maria Regina degli Apostoli alla quale dedicata il nostro Ateneo Pontificio chiedendo lei la sua intercessione perché questo incontro dia frutto sia fecondo per noi che siamo qui presenti per quelli che ci seguono a distanza però anche che sia fecondo in un modo più allargato per noi e per tante persone che in qualche modo si possono beneficiare di questo tipo di attività quindi chiediamo almeno io chiedo alla nostra protettrice Regina degli Apostoli che interceda per noi preso Dio e ci conceda la grazia di portare avanti questo questo compito grazie. Grazie padre. Ringrazio di cuore il padre José Enrico Iersum il nostro rettore del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum che è una realtà giovane rispetto alla Gregoriana, la Terano, padre Alessio ha studiato tanti anni fa ma è così viva e così è nel cuore. Nel mio cuore c'è la realtà del Regina Apostolorum e c'è la realtà dell'Abbazia di Grotta Ferrata che poi significa appunto il monachissimo italo-greco in qualche modo. Allora io ringrazio prima di tutto gli alunni, i miei cari alunni non faccio i nomi perché in questo periodo di esami nonostante questa questa legge per la legge questo sola incantiano degli esami che non lascia spazio neanche per respirare avete avuto il coraggio di godere la vita perché è la bellezza che salverà il mondo come dice il principe Mischkin che poi è Cristo lo fa parlare Dostoevsky e quindi non bisogna aver paura di amare il mondo visto che lo ama anche il padre del nostro signore Gesù Cristo complimenti perché avete avuto il coraggio di amare le cose belle siete venuti questo non significa che chi non è venuto non ama le cose belle ma questo l'avete pensato non l'avete pensato voi non l'ho pensato io comunque alla mia età posso permettermi di dire questo ringrazio i tecnici veramente li ringrazio chiedo scusa perché li ho tormentati ringrazio il caro amico Don Alain Contato ringrazio il dottor il professor Francesco Cefalo che è un godere no il paramento di cui poi vi dirò ringrazio il mio amico Massimiliano Callari che ha esornato questo Ateneo e cura la la repertorio fotografico di questa mostra per una presentazione fotografica la sua cura per l'istituto di studi superiori sulla donna ringrazio Francesca Datri che è la giornalista mia amica che ha curato qui a Roma la rassegna stampa poi presenterò gli amici siciliani allora che cosa voglio dire in due minuti soltanto questa per me una giornata commovente io ho conosciuto padre Alessio che è mia alla mia destra alla mia destra non è non è citazione evangelica diciamo che sono io a sua sinistra nel millenovecentosettantadue avevo sette anni la zia di Grotta Ferrata dove sono stato educato i miei genitori lui ricorda meglio di me a diciamo celebrare servire la liturgia in greco ancora prima che in latino in italiano mio papà era il medico dei monaci dell'abbazia lui è stato a Grotta Ferrata fino al milenovecentottantanove ringrazio gli amici di Grotta Ferrata e per me è stato molto importante nella mia infanzia ingenua e nella mia adolescenza tormentata come presenza spirituale paterna ma direi allora fraterna perché insomma non è poi enorme la distanza cronologica che ci separa ho avuto modo di rincontrarlo a gennaio di quest'anno dopo tanti tanti anni e la Felix Culpa è stato il nostro Ateneo perché io ho seguito la conoscete la professoressa Agata Spampinato in una sua tesi su Kierkegaard Cornelio Fabbro io conservo l'ha visto questa mattina un libro di Cornelio Fabbro perché lui ha studiato qui a Laterano e allora dice c'è una conoscenza in comune vieni a presentare in quel di Barcellona Pozzo di Gotto Milazzo paesi veramente stupendi il mio libro io ho incontrato lì con mia moglie padre Alessio e come se ci fossimo così separati il giorno prima chiedo scusa un po' della commozione e lui mi ha regalato un'icona della Santa Sofia questa icona bizantina slava preghiamo adesso per l'Ucraina per la Russia Florenschi vi facciamo un convegno su Florenschi la prossima nipotina che nascerà ma lui non lo sapeva si chiamerà Sofia quindi ha anticipato un po' perché insomma la santità del cuore rende anche più profonda l'intelligenza stamattina il padre Alessio ha incontrato due monaci della base di Grotta Ferrata un mistero cattolico di rito greco fondato 50 anni prima dello scisma di Michele Cerulari scisma è una brutta parola che non vuol dire niente adesso qui non facciamo le cose complicate ma la storia della chiesa bisogna scriverla e conoscerla bene conoscerla e coscriverla bene un incontro molto significativo un incontro molto significativo molto commovente don Alenna mio cugino conoscete anche voi padre Matteo che non sta bene è stato un abbraccio tra due colte persone poi come dice la regola di San Benedetto della santità delle persone non bisogna parlare perché siamo qui questa valle di milagre però e poi un giovane novizio della base di Grotta Ferrata qualcuno vero Ivan dove stai lo ha lo ha conosciuto no Claudio che diventerà Microschimo o Megavoschimo non lo so nel giorno della metamorfosis cioè il 6 agosto della trasfigurazione questo è molto importante molto importante da un punto di vista ecumenico e poi umano prima che ecumenico perché il signore è il creatore degli uomini e non dell'ecumenismo noi siamo un po' troppo condizionati dalle ecotecarie post cantiane o cantiane o essenzialiste non vediamo le persone vediamo le categorie allora al di là di questo aspetto umano che poi è centrale siamo per noi ma poi insomma siamo ora tra Giuliano e Gregoriano questo è meno importante nella settimana di Pentecoste ha iniziato con il Vasilevurani e padre Alessio la la il deni creator diciamo così che sta all'inizio della liturgia di San Basilio di San Giovanni è cultura il monachessimo italo greco da Giustiniano sesto secolo fino al duedicesimo secolo dalla Sicilia ma anche in Sardegna ma fino in Umbria ma fino in Abruzzo ma fino qui a Roma abbiamo avuto una fioritura non soltanto di monasteri ma di e lui è veramente colui che conosce queste cose unico è un apax molto importante dico soltanto una cosa che la prendo da questo suo testo tra gli anni 678 e 752 in Roma su 13 papi di origine e provenienza orientale ben 11 sono siciliani o calabresi Sant'Agatone, San Leone II, San Sergio I, San Zaccaria i quali a bocca della verità i quali hanno lasciato un singolare positivo apporto alla liturgia romana e alla vita della chiesa d'occidente il canto del trisaggio il venerdì santo la liturgia del sabato santo il senso profondo cristologico della festività dell'evangelismos cioè dell'annunciazione della santa teufania della ipapandi della presentazione al tempio della metamorfosis della ipsosis tu stavru della esaltazione della croce e altro quindi siamo a Roma è una pagina non soltanto di storia della chiesa ma di storia della cultura di questa cosa lo dicevo con gli amici prima Enzo Basso e conosco adesso il professor Raffaele Manduca che è professore di storia moderna a Messina il professor Diego Celi che ha una grande finezza di cuore è un professore di medicina a Padova nel curare in tutti i sensi padre padre Alessio c'è questo mezzogiorno d'Italia non voglio essere campanilista ma da Roma in giù che è veramente il posto più bello del mondo per la natura chiedo scusa eh per la fede perché lì io sono stato a Santa luce del mera monti peloritani di cui parla Omero le isole di Eolo davanti il respiro della maglia Grecia poi la cristianità italo-greca e c'è questa paradosi su questa tradizio delle delle cose belle e vere per le quali attraverso le quali non possiamo chiedere al padre per lo spirito santo in Cristo che nonostante quelle che sono le nostre colpe la generazione successiva allo spirito di Dio più forte possa ancora essere una generazione umana il tono della ragione genera i mostri logos logos che cosa sarebbe la civiltà europea senza il logos la biologia la zoologia l'antropologia il principio è il logos il logo si è fatto carne dopo queste parole la scaletta continua poi saranno gli amici a parlare del l'ultimo l'ultimo ma speriamo non l'ultimo veramente no quindi speriamo poi superato il momento del patos che mi contraddistingue di dar vita a non so pensavo a un'edizione anche di lusso degli studi di padre Alessio che non vadano perduti a non so noi come IFPRESS quindi la medialistica della cattedra Rossio e altre cose anche come Ateneo e questo sarebbe veramente un comunismo concreto di patrocinare questa realtà ultima ma non ultima erede di generazioni di santi che non rimangano soltanto le pietre ma che lo spirito appunto che è capace di fare figli di abbramo dalle pietre possa bene allora adesso la scaletta prevede questo trailer grazie massimiliano non so se c'è bisogno della chiavetta non mi chiedete queste cose che io sono un po' ignorante ringrazio proprio per questo ad maiora i tecnici che gli amici diego raffaele enzo hanno curato quindi abbiamo due focus no l'ultimo romito che il padre alessio mandanea cotis e poi prima di lui tutta questa grande realtà spirituale assolutamente non conosciuta guardate chi furono i primi maestri di greco di di boccaccio e dei premoanisti italiani barlam di seminare mona citalo greci del quattordicesimo quindicesimo secolo quindi questi due focus l'ultimo romito libro degli amici qui laici che mi sono vicini su padre alessio e poi padre alessio che parlerà da ultimo ma non ultimo della stagione culturale e cristiana del monachesimo italo greco andiamo avanti il trailer e poi gli amici e padre alessio e poi io vorrei veramente auspico un dibattito vivo siamo padre alessio come tutti lo chiamano e un prete monaco ortodosso vive in un eremo di un territorio che vide un tempo la straordinaria fioritura dell'ascesi monastica italo greca l'eremo della candelora è situato nel territorio collinare del comune di santa lucia del mela nella provincia tirrenica del messinese che guarda le isole del dio eolo nell'azzurro di reno che vide la venuta di ulisse per consultare il dio là dove bascolavano le vacche sacre al dio sola terra di miti arcaici e di profonda religiosità popolare a 21 anni contro il parere dei familiari decide di entrare nell'abbazia di grotta ferrata lontana ipigone della spiritualità greco cattolica erano passati 30 anni dall'ultima volta che un aspirante monaco aveva bussato a quel portone a grotta ferrata il giovane monaco trascorre con sofferta consapevolezza 16 anni un lungo periodo di studio esercizi spirituali e lavoro ma la scelta alla fine prevale sul giovane monaco così un giorno si presenta davanti ai suoi superiori e manifesta garbatamente l'intenzione di volere lasciare l'abbazia per realizzarsi attraverso il monachesimo ascetico di rito bizantino inizia un'altra storia che lo porta ad essere l'ultimo romito l'ultimo romito traduce il racconto in fascinazione officia insieme storia e fede vi è nella sua parola epica ed estetica che vengono dosate e donate con semplicità e chiarezza gli astanti né mute il copione quando il consenso diventa dissenso alessio manda michiotis testimonia una cultura religiosa millenaria primo archimandrite d'epoca moderna di messina e un fiero apostolo dell'oriente cristiano e gli dice noi ortodossi abbiamo scelto di non nascondere la nostra identità indossando abiti civili perché quelli talari sono il nostro modo di farci riconoscere a vista una spina provoca dolore lacerante l'ecumenismo incompiuto di cui è vittima ma l'uomo di fede accetta questa croce anche senza capirne le ragioni come prova ulteriore di accettazione del sacrificio la voce adesso lo conoscerete meglio era del professor Diego Celi è un medico eh c'ha grande passione per 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 padre Alessio e per tutto quello che rappresenta io è oggi che lo incontro abbiamo collaborato così a distanza miracoli della chat e hanno accurato con con Enzo Basso e con Pino Primitera poi abbiamo anche Raffaele Manduca che fa la prefazione dice la postfazione di Susanna Valpreta per dirla tutta questo testo l'ultimo romito allora lì abbiamo delle copie no e quindi faccio appello anche al vostro buon cuore no con parresia perché padre Alessio vive anche di questo possibilità di sostentamento lascio subito la parola al all'amico nuovo amico che poi fra l'altro è incantato della della cultura ispanica qui siamo ci siamo conosciuti a pranzo è reduce dal cammino di Santiago quindi mi ha promesso che che la prossima volta andrò anche io insomma che insomma ho voglia di farlo da tempo ma non non come si dice a Roma trovo le sole trovo le persone che si sfilano all'ultimo momento no ecco e quindi lascio la parola a a Diego buon pomeriggio mi permettano prima di svolgere alcune riflessioni insieme a voi ringraziare il magnifico rettore di questa prestigiosa università per l'accoglienza e per la sua presenza ringraziare il professor Pandolfi che ha organizzato questo evento grato a voi per la vostra presenza e vorrei ringraziare per la sua presenza e per la sua prefazione il professor Raffaele Manduca ma sono grato anche alla casa editrice Litos di Castelvetrano questa piccola ma formidabile casa editrice che ci ha permesso di poter pubblicare questo testo camminante no hai camino se asce camino all'andar Alessio Mandanichiotis è testimone e narratore del camino come mai tre laici di cui uno anche un miscredente hanno scritto di questo monaco il motivo è semplice padre Alessio come tutti lo chiamano è l'ultimo epigono e testimone di una cultura millenaria che va accudita e preservata se noi riavvolgiamo il nastro della storia e consideriamo alcuni punti salienti della storia d'Italia ma anche d'Europa fisseremo l'attenzione al 535 quando il generale Belisario con un'azione breve sconfiggi i goti e annette la Sicilia all'impero romano d'Oriente l'impero romano d'Oriente è espressione dell'incontro della struttura statale romana della civiltà greca e del cristianesimo quindi è qualcosa che potremmo definire ineffabile i bizantini annettono la Sicilia ma la Sicilia non è regione ancillare nell'ambito dell'impero romano d'Oriente tant'è che Siracusa per anni fu la sede imperiale dell'impero stesso è importante comprendere la funzione che queste tonache nere hanno avuto perché dopo i bizantini che hanno stanziato in Sicilia per 300 anni quindi tre secoli sono venuti gli arabi i quali hanno dominato la Sicilia per 250 anni e se la Sicilia il meridione d'Italia forse l'Europa non è stata islamizzata questo si deve al lavoro capillare culturale che questi monaci queste tuniche nere hanno fatto in tutti questi anni provane sia che Messina ebbe una struttura importantissima che fu l'archimanditrato del Santissimo Salvatore e Messina fu greca dopo gli arabi vennero i normanni personaggi incredibili politici finici ma molto intelligenti i normanni aiutarono il monachesimo italo greco ma non lo aiutarono appunto per questa loro intelligenza politica peculiare perché erano cristiani e non lo aiutarono perché volevano bene a questi monaci italo grechi greci ma perché non sopportavano la supremazia del papato e fu in quel periodo che Messina e la Calabria ebbero un numero notevole di monasteri e fu in quel periodo che addirittura i monaci e l'archimanditrato prestarono dei soldi addirittura al al puer apulei a Federico secondo di Sveglia ma il tempo passa e la storia cambia dopo i normanni dopo i normanni vennero altre dominazioni tant'è che Filippo secondo un borbone anche se osteggiato e ostacolato voleva chiudere questi monasteri la chiusura non avvenne con i borboni avvenne successivamente come dirò ma per quanto non era più il tempo dei saraceni o degli svevi Messina e la Sicilia fu e continuò ad essere epicentro della cultura italo greca tant'è che a Messina Costantino Lascaris fondò la prima scuola di greco dove non venne Grillo attraversando lo stretto ma venne Pietro Bembo e come Carmelo Pandolfi ha ricordato in Calabria c'era un uomo cosiddotto Barlaam di Saponara che veniva definito l'uomo più dotto di tutta la Grecia intendendo Grecia la civiltà la cultura greca e con questo signore Boccaccio e Petrarca ebbero dei contatti studiarono la lingua greca insieme a loro con la morte di Lascaris e l'avvento dei di Garibaldi il monachesimo italo greco finì in Sicilia e in Calabria restano soltanto vestigie che sono architettoniche e sono urbanistiche che fanno parte delle arti suntuarie monetarie e anche della porcellana ma il monachesimo finì perché allora questi tre laici supportati dalla prefazione del professor Raffaele Manduca hanno scritto di padre Alessio hanno scritto di padre Alessio perché rappresenta questa cultura millenaria che ha segnato il nostro paese non solo il meridione ma anche l'Europa che ha impedito il burca quindi era necessario che qualcuno visto che non lo fanno i suoi superiori e non lo fa la chiesa latina ponesse all'opinione pubblica questo problema e allora il messaggio del saggio non è quello di far rivivere la cultura bizantina perché noi non abbiamo nemmeno gli strumenti culturali esistono persone che hanno impiegato la loro vita per fare questi studi ma possiamo sicuramente lanciare un messaggio per preservare accudire questa cultura che è la cultura d'Europa grazie 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 Diego siamo la settimana di Pentecoste al di là della divisione Giuliano Gregoriano ragioniamo con la cronologia dello Spirito Santo e quindi speriamo che grazie ancora a padre questo è un Ateneo Pontificio quindi Roma quindi è un'istituzione autorevole certificata e poi adesso ci abbiamo questo PNRR lo diceva all'Orerso Bongirolami che cura il GAL il percorso dei Niliano vengono stanziati dai fondi c'è un disegno di legge quantunque vero Diego un po' da rivedere per per foraggiare la cultura cristiana e cultura in genere italo greca devo andare lunedì a Montecitorio conosco un amico per parlare di questo forse può essere la volta buona quindi lancio al padre al padre Oiersun ne lo ringrazio noi due anni fa tre anni fa stabilimmo poi fumo sfortunati con il covid un'intesa con l'università cattolica dell'editio no lei era vice rettore no il vov leopoli ucraina pare Alessio l'ha conosciuto il mio cugino il nostro professore di filosofia pare partenio public morto a cent'anni tre anni fa era di quelle parti allora che cosa voglio dire qui con lo studio medievistico a Rosio potrebbe essere implementato non soltanto con l'occidente io da professore di filosofia medievale penso sempre che una pagina poco coperta è tutto quello della scolastica bizantina che potrebbe essere implementata e allora parlo anche agli amici di artisti sogno un'edizione che ci avrà il suo costo magari Iaca vediamo un po' qualche cosa se queste cose non nascono all'università perché lo dico con una polemica voluta viviamo voluta viviamo in tempi pastoralistici dove uno si scandalizza di trovare una persona pensante oddio c'è un'idea questo fa spavento ora io penso che il signore non ci abbia mandato soltanto a dare pasticche alle scimmie ma ci abbia mandato a ad affascinare il mondo con la bellezza che è lui io non credo molto nei non credenti perché tutti quanti crediamo nella bellezza che deve essere poi in fondo una realtà personale perché se noi che siamo persone ne parliamo non siamo l'ultima punta dell'iceberg del mondo allora ecco è l'università che magari la mia università può se Dio vuole se lo spirito vuole e lo vuole dipende da noi farsi carico di fare operazioni culturali belle ricche il libro Romano Guardini l'elogio del libro poi c'è il ebook anche con tutto il rispetto dell'ebook per celebrare questa realtà assolutamente poco conosciuta sottostimata che è la cultura italo-greca dell'Italia da Roma in giù che a Roma ha prodotto undici papi nel nel settimo secolo poi c'è Santa Maria di Grotta Ferrata ma allora poi noi viviamo in un periodo chiudo in cui abbiamo gli alterchi tra patriarcato a e patriarcato b perché andiamo a vedere il parmigiano e perdiamo la pasta asciutta no perdiamo cioè andiamo a vedere gli accidenti e non vediamo togli upochei meno cioè la sostanza la sostanza profonda va coltivata non soltanto è la grazia certo ma la grazia si avvale non siamo luterani con tutto il rispetto anche dell'intelligenza dell'uomo e l'intelligenza si forma attraverso la conoscenza e la conoscenza può essere può essere beneficata se all'università si dà vita anche anche con spesa no con spesa a studi che siano accurati perché io 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 vengo veramente non soltanto io beneficato dalla lettura di Teodoro Studita di Ansuus von Balthasar no che quale operazione caritativa hanno fatto hanno scritto libri caritas in veritatem facile caritatem in veritatem quindi dobbiamo continuare noi questo nonostante i nostri limiti e spero proprio che ne abbiamo parlato a pranzo si possa con fotografia con con ricchezza di paramenti con cura del del sacro con cura della liturgia con edizioni ben fatte universitarie con partnership con lo stato visto che il covid ci ha regalato la possibilità di spendere finalmente anche se non ci sono più le lire di dar vita ad operazioni che siano culturali l'università e siamo all'università nasce per questo era un po politico il mio discorso e adesso lascio la parola allora non perché tu sia politico ma non lo so a Enzo Basso ecco non lo sei bene ma nel senso greco a Enzo Basso il dottore Enzo Basso che curato dove vuoi dove vuoi i tecnici chiedo aiuto ai tecnici da dove dove ecco ecco beh massimiliano grazie 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 all'invito grazie all'università pontificia a professore Pandolti e la mia vuole essere una testimonianza per raccontarvi un po' come è nata l'idea di questo libro che si chiama l'ultimo romito un giorno al telefono con il professore Celi stavo parlando del suo della sua ultima pubblicazione a proposito di un libro scritto con Pino Privitera il titolo di questo libro è il legionario scusami la promessa del legionario visto che si è svegliato non delle cosa raccontava questo libro una cosa incredibile perché è la storia di un uomo semplice un analfabeta dotato di grande fede decide di partire come missionario e come volontario per la guerra arriva questa decisione per un motivo proprio di estrema povertà ma ci arriva grazie alla sua fede e a questa forza questo contadino anziché finire in Africa come pensava pensava fosse questa la sua destinazione finisce poi per imprecisati percorsi in Spagna dove c'è la guerra civile e lì fa un vero e proprio voto perché prega e dice quando tornerò a Santa Lucia del Mela voglio costruire una chiesa per la Madonna fa quello che si chiama un ex voto una promessa che diventa la ragione stessa della sua esistenza questa storia piccola perché spesso bisogna partire dalle storie piccole che poi mattone dopo mattone costruiscono la storia dell'edificio del mondo alla fine si avvera perché riesce a tornare nel suo paese e mantiene fede alla sua promessa perché pietra dopo pietra in una località remota riesce alla fine fra mille difficoltà a fare questa chiesetta dedicata alla Madonna questa storia viene scoperta per caso da due viaggiatori che camminano che sono l'amico chirurgo Celi e Pino Privitera e decidono di scrivere un libro scrivono questo libro strano che poi viene presentato devo dire io ho letto con molto piacere nel corso di una telefonata io che sono il discredente di cui parlavo ma ho solo qualche dubbio sono solo un laico ho detto scusami c'è stato questo signore che alla fine ha costruito una chiesa ma perché non scriviamo un libro su padre Alessio che invece ha il suo eremo ma per riuscire ad esercitare la sua fede i sacramenti verso i suoi fedeli è costretto ad essere un prete al contrario un prete al contrario perché io faccio di mestiere il giornalista padre Alessio è l'unico che parte dalla Santa Lucia del Mena dovete sapere che a Messina c'è una ricchissima comunità di ucraini sono quasi 2000 e va a fare il prete a domicilio e il mondo al contrario e lui lo fa con la sua con la sua età con i suoi acciacchi con dedizione spesso chiedendo in prestito le chiese una volta i valdesi ad altri che si prestano questa storia io l'ho scoperta per caso perché padre Alessio è nato in Sicilia ma è l'unico della sua famiglia ad essere nato in Sicilia perché io come dico spesso lo sverno in un paesino che si chiama Serro sopra vita franca tirrena stiamo parlando del ditoare tirrenico della provincia di Messina ho conosciuto il papà di padre Alessio ho conosciuto la mamma conosco tutti i fratelli e ho sempre conosciuto padre Alessio di Sghimbescio non meravigliatevi ma io ho conosciuto padre Alessio dopo che è uscito il suo libro per i casi strani della vita perché abbiamo scritto questo libro sostanzialmente siamo quasi quattro amici al bar perché c'è il professore Manduca che ha scritto volumi sulla storia della chiesa che bisogna essere veramente appassionati per leggere perché è riuscito a fare diagrammi, istogrammi e quant'altro. Pino Privitera che abita di vicino ed è stato un funzionario della regione siciliana, grande appassionato di storie e poi il professore Celi che ha fatto il chirurgo, il primario, è insegnato nell'università però ha la grande dota di essere un curioso, un curioso che si è appassionato alla storia di padre Alessio, devo dire il mio contributo è stato minimo ma alla fine questo libro è uscito e oggi ho sentito emozionarsi il professore Pandolfi, mi è sembrato veramente una cosa incredibile perché da questa idea, quasi da questa provocazione, siamo arrivati in questa sede e io ne sono assolutamente fiero, contento anche per padre Alessio perché dopo tanti anni si rimargina una ferita. Si rimargina una ferita per la storia di tutto il suo percorso spirituale perché lui vive da solo, gli abbiamo fatto violenza, l'abbiamo tirato fuori dal suo isolamento, l'abbiamo costretto a fare queste presentazioni, siamo perfino perfino finiti a Castelvetrano in una presentazione con il vescovo di Castelvetrano che è anche il rappresentante dell'Ace in Sicilia, ma questa, come dire, passione etica, religiosa, da che cosa nasce? Dal fatto che vogliamo anche sollecitare in qualche modo la Chiesa perché si interessi a padre Alessio non perché, perché padre Alessio è vivo, vegeto, accanto a noi per fortuna, è testimone di una storia millenaria e quando si comincia a studiare il monachesimo si rimane incantati. Quelli che stanno a Messina, i cittadini, non sanno spesso che quando si parla dei colbi Sarrizzo, Sarrizzo era un monaco di dito greco ortodosso. Quando voi vedete lo stretto di Messina c'è questa famosa lanterna di San Reineri, San Reineri era un monaco greco ortodosso. In quel territorio c'erano 300 monasteri e poi il monastero più importante era Messina, era quello di San Salvatore. Il debito culturale che noi abbiamo verso la cultura greco berzentina è enorme. Quando noi sentiamo parlare del Biliade, se non fosse stato uno scuro scriba di un remoto quartiere, oggi abbandonato di Messina che è Bordonaro, oggi noi non conosceremmo Biliade. Ci rendiamo conto di quale perdita ci sarebbe stata se non ci fossero state queste testimonianze che ci hanno portato avanti tutta questa cultura. Cos'è successo nel tempo? La cultura greco ortodossa piano piano è stata dimenticata. Diego Ceri ha raccontato la storia, c'è stato questo crugiolo di culture che erano arabe, bizantine, in qualche modo la Sicilia, io dico sempre, non è stata conquistata, era la Sicilia che conquistava tutti quelli che venivano da fuori. Però oggi questa cultura va valorizzata e ringrazio il professore Pandolfi perché io da giornalista quando ho visto questo libretto quasi ciclo stirato sui santi greco ortodossi ho riconosciuto subito lo straordinario lavoro di ricerca perché mentre lei parlava io vedevo già questa edizione in carta patinata perché il testo già esiste al frutto di un lavoro di decine di anni di ricerca. Noi dovremmo sapere chi è Sant'Ilarione da Gaza e dovremmo studiare questi pezzi di cultura che probabilmente ci aprono veramente un mondo perché non c'erano solo i conventi ma c'erano i monaci che vivevano da soli, sfidavano gli intemperi, avevano questo rapporto estremo con la religione perché stavano anni senza vedere nessuno. Credo che sia la forma estrema di spiritualità e lo dice uno che probabilmente come dice mi rimproverà spesso Diego Ceri è quasi miscredente. Cosa bisogna fare? Noi abbiamo fatto questo intervento assolutamente come dire da posizioni diverse perché siamo persone che conosciamo padre Alessio e abbiamo apprezzato tutto quello che lui fa. Il suo è stato un lavoro silenzioso, umile e soprattutto si presta ad aiutare gli altri. Oggi credo che siano anche maturi i tempi perché si possa fare qualche cosa per dire qual è stato l'enorme lavoro per preservare questa cultura e questi riti. Il fatto che l'idea sia partita dalla promessa del legionario che è riuscito a costruire una chiesa. Oggi in qualche modo il nostro modesto proposito è giusto che padre Alessio abbia una sua chiesa perché la comunità degli ucraini e non solo ma di tutti quelli che hanno diritto ad avere battesimi, matrimoni, financo funerali è un diritto come dire insopprimibile dell'uomo ma è anche un diritto costituzionale. Quindi aiutare questo percorso perché padre Alessio possa esercitare anche le sue funzioni sostanzialmente è semplicemente quello che ci proponiamo. Il fatto che oggi siamo in questa sede ci riempie d'orgoglio perché è un riconoscimento piccolo verso questo grande lavoro che padre Alessio ha fatto. Grazie. Grazie, grazie, grazie Enzo. Io personalmente se Dio vuole mi impegno per un'edizione bella di questo libro. Sentirò Iacabuc, visto che tu conosci Milano poi tra l'altro, no? E quindi sono sicuro che il rettore in questo, come in tante altre cose belle che facciamo, mi appoggerà. Stavo pensando alla Sicilia, quindi non so, io ho fatto professore di storia per tanti anni, 27 sicani, siculi, greci, romani, eruli, elmi, bizantini, arabi, normanni, svevi, angioini, aragonesi, spagnoli, garibaldini e democristiani. Quindi abbiamo avuto tante, tante, tante grillini, anche tante dominazioni, perciò ecco una officina omnium come di officina scuola di riugina. C'è Diego che vuole prendere la parola volentieri. Diego, prego. Manca. Saluto il padre, il padre rettore che naturalmente ha tre facoltà qui sotto anche se siamo in tempo di esame e quindi è richiesto e grazie. Grazie. Arrivederci. Poi adesso i legionari hanno anche un cardinale, quindi stiamo diventando potenti, chiederemo alla nuova, all'antica Roma chiedo scusa. Grazie padre. Diego. Manca fra di noi il terzo autore che si chiama Pino Privitera. Un evento prevedibile ma non prevenibile gli ha impedito di essere qui insieme a noi. io vi prego di fare un caloroso applauso a Pino Privitera. Grazie Diego. Ora la parola al collega professor Raffaele Manduca che è professore di storia moderna a Messina, storico della Chiesa. Conosco da oggi e quindi a lui la parola prima di arrivare al padre Alessio. Grazie, grazie professore. Grazie per l'invito. Naturalmente grazie al Magnifico, grazie all'università, grazie al pubblico, al gentile pubblico. Ma io faccio il professore di storia, cioè faccio l'artigiano più che il professore. Mi ritengo un ragazzo di bottega nonostante l'età, no? Allora quando uno pensa alla storia pensa immediatamente al passato, ma la storia ha sempre a che vedere col presente, anzi è il presente che provoca, spinge, urge ogni operazione storiografica. Allora quando mi è stato proposto così di dare il mio piccolo contributo su padre Alessio, mi sono chiesto che senso ha questo, un'operazione del genere, dal punto di vista chiaramente, dal mio punto di vista, dal punto di vista dello storico. Che senso ha fare la storia di padre Alessio? E mi è sembrato che ci fosse più di un motivo per poter fare un'operazione del genere proprio guardando al presente. Perché padre Alessio è carne e sangue vivo della storia. Cioè in padre Alessio la storia, questa lunga storia, questa lunga tradizione, questa splendida grande tradizione della religiosità, ma non solo della religiosità, della civilizzazione greca e ortodossa, ancora oggi, ancora oggi è carne e sangue. La storia è nel suo modo di vestire, la storia, questa tradizione è nei gesti che compie ogni giorno, nelle preghiere, negli inni, in quello che dice, in quello che fa. Allora mi sembrava, mi sembrava, come dire, un'operazione un po', senza dubbio, poco accademica, ma molto, 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 dal punto di vista antropologicamente forte, dico. Per cui si può fare storia attraverso padre Alessio, attraverso quello che padre Alessio è, non solo quello che è stato. Io ho conosciuto padre Alessio ad un convegno che avevo organizzato all'Università di Messina e lui doveva fare la sua relazione, sapete come funziona nei convegni, voi ne sapete più di me, ognuno fa la sua brava relazioncina, la legge o la dice e tutto finisce lì. Lui doveva fare una relazione, credo, sugli inni, eccetera. Allora a un certo punto ha messo da parte i suoi fogli e ha detto, guardate, ora vi faccio vedere veramente che cos'è la melodia, che cos'è la musica, come i monaci cantavano e ha cominciato ad intonare non so quale, quale inno. Bene, vi assicuro che tutti, dagli specialisti, da gente che si occupava di storia bizantina, ai, all'ultimo dei miei studenti, sono rimasti ad ascoltare, a sentire, cioè hanno ricordato, hanno fatto passare dal cuore, hanno fatto passare dal cuore. Questa, secondo me, è un'operazione che ha a che vedere con la storia, non con la storia quella che possiamo leggere sui libri e che tocca solo la mente, ma proprio quella che tocca il ricordo, quella che fa passare dal cuore, quella che fa diventare carne e sangue vivo il passato. Allora mi sembrava un'occasione più unica che rara dare il mio piccolo, piccolissimo contributo perché io ho solo fatto la prefazione al volume ed è una storia quella che compendia padre Alessio, quella che ci fa ricordare padre Alessio, è una storia a cui è stato detto, lunga, ma è anche una storia tragica e questo al presente secondo me deve importare. È una storia tragica non nel senso greco, io non mi permetto di invadere terreni che non sono appunto quelli miei, ma nel senso forse qui è stato nel senso cristiano, di destino, come di scelta, come di impegno personale, qui prima veniva ricordato Kierkegaard, no? In questo senso tragica. Ed è una storia in cui la scelta personale ha determinato gli esiti. È chiaro, l'invasione araba, i musulmani, i turchi, tutto quello che c'è ha determinato questo lungo e progressivo esaurimento della linfa orientale, della civilizzazione prima che della religiosità orientale di cui i monaci sono stati i principali, possiamo dirlo, i principali artefici per quel poco che ne so. E però c'è anche una scelta, quando io dicevo, personale, dell'Occidente. Una scelta che ancora oggi c'è, perché a Oriente il cristianesimo sta lentamente morendo. A Oriente il cristianesimo viene soffocato, e voi lo sapete meglio di me, in Terra Santa, eccetera, eccetera, è nella più totale indifferenza dell'Occidente. Quello che c'era da noi in Sicilia, diciamo, noi abbiamo avuto anche degli insediamenti, a Bresch, Piana degli Albanesi, Mezzo Iuso, c'è un'eparchia ancora oggi in Sicilia. Però, diciamo, queste esperienze sono state latinizzate, sono state assunte, fagocitate dalla Chiesa Romana Cattolica, soprattutto dopo il Concilio di Trento. E fa oggi, come dire, fa un po' specie guardare alla Sicilia prima del Concilio di Trento, perché la religiosità siciliana, la religiosità meridionale, a partire da quello che ci hanno insegnato storici, antropologi, anche non solo cattolici, ma laici, è quella cosiddetta religiosità popolare, no? Di cui è informato il Sud Italia. Ma prima ancora, questa religiosità popolare è però il lascito tardo del Concilio Tridentino, perché ancora fino nel Cinquecento, nel Quattrocento, la presenza, soprattutto nell'area del Messinese, a cui faceva riferimento prima, a cui si faceva prima riferimento, questa era una presenza forte, che è stata via più latinizzata, che è stata via più strozzata, che è stata via più soffocata da scelte, no? Quindi non è stato un destino, è stato un destino voluto, in cui anche la Chiesa cattolica romana ha avuto, ha avuto la sua parte di responsabilità. E allora, allora, ed è stato, diciamo, un destino che ha portato oggi, i catenunque, come direbbero i latini, padre Alessio, ad essere l'ultimo romito in Sicilia, l'ultima presenza di questa tradizione, di questa civilizzazione, di questa cultura, che era anche economia, era anche antropologia, che a noi oggi sembra qualcosa di strano, qualcosa di estraneo. Padre Alessio viene guardato da un lato con ammirazione, ma anche dall'altra parte con un po' di sospetto, no? E anche, a volte, anche da una parte delle gerarchie ecclesiastiche. L'intervento di Enzo Basso era questo, quando si parlava di ferita. Bene, allora, ecco, dal punto di vista mio, dello storico, mi sembrava interessante intervenire in un'operazione del genere che non è, non voleva essere il classico libro di storia, ma che voleva diventare uno strumento, appunto, per ricordare, fare passare dal cuore, per dare la possibilità alle persone, noi abbiamo visto in queste presentazioni che abbiamo fatto, alle persone e soprattutto ai ragazzi, di comprendere, di riconoscere un mondo che è compendiato nella figura, nell'abito, come dicevo prima, nei gesti e nel portamento di padre Alessio, che è alla base anche della nostra, del nostro essere nel presente. E l'ultima, l'ultima cosa che dico, e poi vi taccio perché non voglio, come dire, abusare molto della vostra pazienza, in questa operazione c'è anche un sostrato, come dire, c'è una domanda ed è una domanda che non ha a che vedere solo con padre Alessio, con la religiosità ortodossa, ma è una domanda di carattere, credo forse più pesante, ontologico, mi passi il termine. Cioè il passato ha dei diritti, ha dei diritti il passato, anche quando questo passato ormai, dal punto di vista proprio del vissuto, diventa sempre più rarefatto fino al limite, fino quasi alla scomparsa. Cioè questo passato lo possiamo ignorare solo perché ormai al presente, nel presente non incide in maniera, solo perché la presenza di padre Alessio è una presenza, l'atomica, quasi come i cristiani delle origini, no? Però ecco, vorrei vorrei dire, proprio da quelle catacombe è iniziata poi la storia del cristianesimo che ha portato il cristianesimo a espandersi e a diventare la religione e quel grande processo di civilizzazione che è stato nel corso di due millenni. Grazie. Grazie Raffaele. Aprendo, chiudendo ma volentieri in apparentesi, ringrazio il generale Donato Mauro che è accompagnato dalla mia consuocera, è già stato comandante nato a Messina, ci adorna della sua presenza. Mentre parlava lo storico, io così viaggiavo un po' dopo il Concilio di Trento come in un periodo di razionalismo teologico la chiesa d'Occidente e d'Oriente è stata salvata dalle devozioni popolari e prima l'archimandritato del Santissimo Salvatore di Messina che ha avuto Bessarione premiato dal Papa dopo il Concilio di Ferrara Firenze. Bessarione è stato anche commendatario a Grotta Ferrata e Grotta Ferrata, il Concilio di Ferrara Firenze, Pico della Mirandola, studiato da Pare Cornelio Fabbro. Sto collegando le cose. Prima di andar via nell'ottantanove, Pare Alessio mi ha donato introduzione a San Tommaso di Cornelio Fabbro che lui studiava e noi sappiamo chi è qui per quanto riguarda la filosofia, la metafisica allaterano tanti anni fa. Vabbè quindi tanti spunti per se Dio vuole sempre fecondare la nostra conoscenza. Adesso io e la cosa più importante, è stato invocato lo Spirito Santo prima, mi rivolgo soprattutto agli studenti, alcuni sono sacerdoti, prossimamente diacono, vero Celso, uno, due, tre, quattro, cinque, sei perché questo poi è il succo di poter, in spirito anche orante, in cimetto, ricevere dalla parola di Padre Alessio qualcosa che sicuramente vi farà bene. Lascio veramente la parola al mio caro amico Padre Alessio Mandani-Chiotis. Ringrazio gli organizzatori di questo incontro così imprevisto nella mia immaginario, nella mia fantasia. Ricordo quando dopo la scomparsa del grande Papa di Roma Paolo VI si affacciò al balcone di San Pietro una figura minuta che diceva se avessi saputo mai avrei immaginato, che sarei diventato Papa, avrei studiato di più, Papa Luciani di dolce memoria, non mai avrei sognato che oggi di trovarmi qui in una pontificia, università, Roma, Caputmundi, con un pubblico di studiosi interessati a questa vicenda che mi sovrasta perché io sono povero monachello sperduto. Il tema addirittura è immenso. I studiosi, gli autori del libro che mi hanno preceduto, che ringrazio perché stravedono per una persona insignificante come me, hanno insistito in tutti i modi, insieme al caro professor Pandolfi, a cui mi lega una vita di affetto, di amicizia, di condivisione dei valori della fede, un argomento, un titolo così, così grande, spiritualità e cultura, misericordia, non i brividi, del monachismo italiano greco, mare magnum che farebbe e spaventerebbe qualunque pagina sulla dirà storia dove il professor Paolo Mieli, passato, presente, futuro, invitando grandi studiosi, certamente competenti, i quali anche loro annaspano nel tentativo di trasmettere la conoscenza di un passato che è presente, ma che è diventato difficile comunicare agli uomini e alle donne del nostro tempo. Come mai il monachismo italiano greco spiritualità dell'Oriente, Alessio Manichiotis, se io vi chiedessi chi era Francesco Forgione, qualcuno potrebbe dire, boh, non so, sì, noi lo conosciamo più come Sampio da Pietrelcino, ma quello era il cognome civile, no, da religioso è un'altra cosa, è così, il mio è un cognome religioso, intende il monastero, così fanno i monaci che non hanno altra famiglia se non il monastero a cui sono legati. Io sono anch'io epigone di una realtà immensa di cui ignoravo totalmente l'esistenza perché nel nostro immaginario culturale non se ne parla, punto e basta. Forse siamo stati un po' colonizzati anche da modelli, da schemi culturali imposti, da leggi dello Stato, che intendono più omologarsi a modelli europei anziché salvare la propria identità italiana che è unica e irripetibile al mondo. Io sono un povero siciliano, figlio di un messinese, il quale a sua volta, avvocato, laureato, giurisprudenza, il quale a sua volta è figlio di un messinese che ebbe l'avventura di sopravvivere allo spaventoso terremoto del 1908 dove Messina praticamente è stata distrutta perché poi quel poco o quel molto che si era salvato, secondo la mentalità massonica di allora, doveva essere fatto saltare con la dinamite perché bisognava rifare da zero, quindi cancellando perfino le pietre e le strade che ci ricordavano un glorioso passato. Ricordo che, poiché fui affidato da bambino ai nonni, cedevo al nonno, nonno, ma come era il terremoto? E quest'uomo che ha fatto la grande guerra, che era un grande lavoratore della campagna, ma aveva anche dei ruoli come usciera il tribunale di Messina, faceva un gesto che forse è comune nel mondo mediterraneo, figlio, 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 figlio mio, figlio mio, figlio mio, non ci sono parole, diceva, non ci sono parole per descrivere che cos'è un terremoto. Il terremoto ha colpito una città che era la più greca, la più porto di mare, la città da cui partì la flotta di Lepanto, la prima scuola pubblica di greco gratuita in Europa, era l'imbarco per l'Oriente, insieme alla Puglia. È una città che oggi è l'ombra di se stessa, mi dicono gli studiosi stessi che non si riesce dopo più di cento anni a rialzare un po' con le sorti, è un porto di mare, quindi con tutti i problemi che questo comporta e soprattutto la scomparsa delle pietre. Se per malaugurata tragedia che l'onipotenza divina non voglia mai permettere, dovesse scomparire la Basilica di San Pietro, voi capite il spaventoso coltraggio alla storia, alla verità, alla civiltà, all'identità italiana, dell'Europa, del mondo, un miliardo di credenti, vedono in quell'edificio il segno della presenza di Dio nel suo popolo e nei suoi pastori, nei suoi vescovi, di Cristo soprattutto. Quindi da bambino ricevevo, come dire, dei piccoli input, le nostre proprietà, in campagna erano proprietà appartenute ai monaci greci, quindi in caso si parlava continuamente di questi monaci, di cui non si aveva un'immagine, però erano onnipresenti perché fino a ieri, l'altro ieri, no, potremmo dire, qui c'erano i monaci, questa era la cisterna, questo era il parroco, questo era il calice che hanno usato, qui c'era il VI secolo perché la presenza è più che millenaria, di una fioritura immensa di civiltà, cultura e santità di cui il meridione è stato teatro. Il meridione d'Italia è stato, per la grecità classica e per l'Oriente, un po' come, dicevo, come l'America oggi per l'Europa, la terra è il nuovo mondo. Quando i greci cominciarono a sbarcare, l'ottavo secolo avanti Cristo, verso le terre della Enotria, Ausonia, la terra del tramonto, la Vitali e la terra dei vitelli, coprendo queste terre, hanno portato la civiltà perché? Perché con loro comincia la storia dell'Italia meridionale. Senza di loro noi dell'antichità, dei popoli antichi non sapremmo assolutamente nulla e quindi grazie a Timeo di Taormina, grazie a Diodoro Sicolo, suo figlio, si sono conservate notizie perché grazie a loro gli antichi capivano che la civiltà si fonda sulla storia, sulla documentazione. Ma io queste cose, devo dire, non le ho lette né all'inventario, alle medie o al liceo, ho dovuto cercarmele quando da Monaco mi sono detto, ma com'è possibile? Cosa c'è stato? Ma perché? Ma com'è? E ho cominciato a vedere che Roma ha ricevuto la civiltà ellenistica dopo Alessandro Magno, quindi tutto il patrimonio antico dai sumeri ai vittiti, dai fenici, dagli egizi, Creta, la classicità che Alessandro Magno ha reso di pubblico dominio l'ha ricevuto Roma dall'Italia regionale come per osmosi, come una membrana che ha trasmesso. Io non mai avrei ricordato, forse sì, forse il professore spiegava, noi dormivamo al mattino, ma non mi ero accorto che il primo poeta della lingua latina è un greco pugliese, Livio Andronico, il quale ha composto i primi testi di cui oggi possediamo memoria. Roma, con tutta la grandiosità di una civiltà probabilmente etrusca, Roma, interpretato come parola greca, in realtà forse è una parola etrusca che vuol dire guado del fiume, isola tiberina. Che cos'era il Lazio? Tutti i popoli latini, i popoli dell'Italia, Roma ha omologato, ha ingrandito, si è imposta, si è in qualche modo proposta come centro sociale, politico, economico, ideologico del Mediterraneo. La provvidenza di Dio, dicevano gli storici antichi, non solo Agostino, ma penso alla poetessa greca Cassia, la monaca greca che ha scritto l'inno del Vespro del Natale, dove si dice che mentre Augusto, imperatore, aveva pacificato il mondo, Cristo, Signore, è sceso dal cielo. Vedete come storia, cultura, letteratura, poesia, preghiera, liturgia, si intrecciano in un modo così onnicomprensivo, che in occidente non ha confronto. Io qui mi sono reso conto da ragazzino crescendo di due mondi diversi. Ho riscoperto il polmone orientale che ignoravo, benché l'infanzia mi avesse dato degli input. Ho riscoperto quanto avevo studiato il gimnasio, il liceo, io sono un lombardo di adozione, un brianzolo, dove si è studiato con serietà, e però tutti gli anni in Sicilia, dai nonni, quindi la Sicilia, la Calabria, questa terra, penso a Pitagora, Crotone, la Calabria, filosofia, religione, misticismo, musica, astronomia, geografia, è tutto. Pitagora, una scuola religiosa. Penso a Parmenide, di Elea, Velia, oggi sono quattro pietre, ma lì c'è stata una delle scuole di pensiero dell'antichità, le prime, di una grandiosità, di una profondità, potremmo dire, non so, Oxford. l'America, gli studi più, 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 diciamo, eccelsi a un livello mondiale. Archimede a Siracusa, benché fosse figlio di un astronomo di Alessandria, ma perché la Sicilia? Platone è venuto tre volte a Siracusa per impiantare questa idea, comunismo antelitteram, la città del sole, dove l'umanità, l'utopia, vorremmo come i polli, metterli in una stia, coltivarli, oggi si ripresenta, il pensiero unico, il Papa minaccia sempre come un pericolo demoniaco, la filosofia, le scienze, la letteratura, Stesicoro, Ibico, Alessi. Questa cultura non ha mai avuto una cesura, un taglio, come è avvenuto in alcune date che gli storici tentano di, come dire, di posizionare per avere, come dire, un insieme uniforme, no? La caduta dell'impero romano, Odoacre, Romolo Augustolo, è la data della fine di un, di una storia, di una civiltà, che poi continua in un altro modo, non è più quella di prima, romano-barbarica, da qui viene poi la nostra civiltà europea, un osmosi. In Oriente è continuata, fino a quando è continuata? Beh, per Costantinopoli fino alla scoperta dell'America, quasi, no? 1453-1492. Com'è possibile che la civiltà, i testi, le poesie, la letteratura, gli inni, la religiosità, abbia potuto continuare ininterrotta, senza quelle cesure drammatiche di cui noi stessi abbiamo sofferto? Pensate alla riforma protestante, una lacerazione che dura ancora oggi. Pensate alle continue guerre che hanno attraversato e straziato l'Europa, prima di trovare una certa, come dire, omologazione, e non è detto che la cosa sia finita, come sapete. Certe altre lacerazioni, non so, per l'identità religiosa l'Inghilterra, anglicana. Pensate alla rivoluzione francese, il primo attacco alla cristianità su Asta Scala, dove l'intenzione è di cancellare il cristianesimo dall'Europa. Si parlava in strada della guerra civile di Spagna, il nazismo, il comunismo sovietico. Sembra che l'unica colpevole di tutti i mali dell'umanità sia la cristianità. Quindi la fatica enorme di civiltà, cioè di dignità dell'uomo, di elevazione spirituale, la preghiera, la mistica, la ascetica, la scesi, sia continuamente combattuta da forze demoniache, bisogna chiamarle con il loro nome, perché l'Europa non ha il coraggio di chiamarle così, che vogliono estinguere la parola Gesù Cristo. E il pericolo è che i credenti in Cristo si facciano succubi di questa pressione psicologica, sociologica. Vedevo per strada venendo questa mattina su un trenino dalla stazione Termini, un gruppetto di ragazzini nostri, i nostri ragazzini di quartiere, non so, quindi forse andavo alla scuola, ma io ho sentito soltanto bestemmie, parolacce, volgarità, maledizioni, imprecazioni, sconcezze. Ma come si nutrono i nostri figli di queste cose? Ma voi pensate che questi messaggi subliminali non entrano nel profondo? Ma come si fa poi a rimediare? Va bene, la divina grazia imploreremo pietà. Ma voi capite che la barbarie è dietro l'angolo. Si vuole niente che ci sia un crollo. Per l'Oriente questo non è stato fino a un'epoca in cui un certo quantitativo di patrimonio letterario, librario, si è salvato. Ci fu uno scempio, distruzioni, ma molto è emigrato in Occidente e questo ha salvato, ha risvegliato. Nell'Occidente l'interesse per la continuità del pensiero culturale, storico, artistico. Per la Sicilia non c'è stata questa cesura. Vedete che ritorno di nuovo. Perché? Perché in Sicilia la civiltà antica è durata ininterrottamente fino a Carlo Magno. 826 quando malauratamente un esarca bizantino della Sicilia chiama i musulmani dal Nord Africa, non rendendosi conto del disastro che ha combinato. Perché da allora l'Islam agogna attraverso la Sicilia entrare in Europa, c'è poco da parte. La terra lunga. E la Sicilia che assorbì questo primo scontro che gli imperatori di Bisanzio avevano intuito già secoli prima perché l'intelligence si informava alla polizia, all'imperatore del pericolo che il Nord d'Africa islamizzato premeva per arrivare, tanto che Costante II aveva trasferito, come bene è stato detto, la capitale della Seracusa perché capiva che bisognava affrontare il pericolo da là. La corte a Constantinopoli giocava a farsi belli e lo hanno ammazzato non capendo che aveva visto bene da acuto politico. Quindi gli allarmi c'erano stati. A sentire le poesie gli inni che i nostri santi perché la liturgia bizantina ha questo di straordinario rispetto al patrimonio dell'Igente dell'Occidente che ha una biblioteca di testi che vengono cantati in continuazione tutto l'anno in musica perché si canta non si le città. Ottavo secolo, quarto secolo, quinto, secondo secolo, l'inno del martire Atenogene Fossi e Larone, l'inno del tramonto. Praticamente la cultura antica si canta in chiesa. È come se si cantasse Vergine Madri, figlia del tuo figlio, gli inni di Sant'Ambrogio, cosa potrei dire, altri seduli, altri poeti, Altissimo, Onipotente, Buon Signore, Cantico delle Creature, se in chiesa si cantassero queste cose, sempre, senza una cesura che tagli e dica basta, fino adesso era così, adesso facciamo ye ye, non è concepibile in Oriente una cosa simile. Le chitarre, capite? Cosa è avvenuto? Non lo so, lascio agli studiosi, ma certo è crollato un modello mentale. Che cos'è il culto cristiano? Si è tentato, con tutte le buone intenzioni, di un ritorno alle sorgenti, ma forse non sono state sorgenti, forse. In Oriente sono al pensiero di toccare una virgola, vengono i brividi, si rizzano i capelli. Perché? Perché il modello ideale di Onigi, l'areopagita, il platonismo, il modello angelico, eterno, inuta, deve essere lo specchio a cui noi guardiamo per celebrare qua la lode a Cristo, che è il Signore del cielo, della terra, di tutte le cose visibili e visibili. La liturgia che i padri hanno fissato con una competenza, una devozione, una cultura, una rettitudine inimmaginabile, nessuno si andava a toccare. Quando mille anni, duemila anni, mille ottocentanti di continuità, plasmano una sensibilità, una mentalità, un tessuto, potremmo dire, la carne, voi capite che Gesù Cristo, mi si chiedeva quando ero monaco, dice, ma San Nino quando è vissuto? Quarto secolo, quinto secolo? Dicono un po' più tardi. allora ho capito, dico, un po' prima di San Francesco, sperando che sapesse quando era vissuto San Francesco, a un prete dei castelli. L'abbazia da mille anni là, ma non sapeva chi era sto San Nilo. E quanti ce ne sono? Due, tre, quattro? No. E chi era? Com'era vestito? se avessi detto che Nilo è una delle grandi figure della spiritualità dell'Italia meridionale, che l'ortodossia invidia. Mi dicevano i prete della Grecia, gli italiani non capiscono niente, gli italiani non si rendono conto di che patrimonio ha, giocano a fare i cretini, a fare gli ignoranti. Avessimo noi queste cose in Grecia, su ogni pietra faremo una basilica. La mia esperienza è che il territorio è un territorio montuoso pieno di rovine, dove le erbacce sopra, eppure lì è vissuto San Levonelli, è vissuto San Cremetto, è come se Monte Cassino sparisse, è come se Assisi scomparisse. I nostri santi scrivevano inni, e un inno, che si canta spesso, no? Diceva alla Santa Madre di Dio, liberaci dai figli di Agar, i soldi musulmani. Ma come le cavallette? E quel santo era disperato, dicendo, Madonna benedetta, ferma questi mostri. Hanno vinto loro, la Sicilia è stata fagocitata, sono scappati in massa, in Calabria, dalla Calabria in Grecia, con un movimento che i normali hanno in parte frenato, ma ormai l'esodo delle migliori personalità erano andate via, tranne alcune come Nilo e altri, verso il nord della penisola. In chiesa in Grecia si cantano gli idni alla Madonna per la quindicina d'agosto, per l'addormizione. Tutti cantano gli inni che un siciliano di Siracusa ha scritto nel IX secolo, ma in Sicilia nessuno sa chi è questa persona, non li ha mai sentiti cantare, tranne gli specialisti, va bene, grazie, professor Santo Luca, professoressa Follieri, dei grandi studiosi italiani che hanno veramente studiato tutto ciò che ci è rimasto della produzione libraria, ma non sanno che il più grande patriarca di Costantinopoli, dopo Giovanni Crisosto, Bricorio di Naziano, è un siciliano di Siracusa, Metodio, il quale ha difeso il culto delle icone, con le catene, per nove anni, sepolto vivo in una fogna con un diventare imputrefazione, per piegarlo a firmare, ma lui non si è piegato e non ha firmato la distruzione delle icone, perché diceva, è contro la fede. Sono figure, ricordo quando accompagnavo gruppi di visitatori, soprattutto religiosi, religiose, a visitare, veniva spontaneo dalla bocca di molti, come piccola la nostra fede, diceva, ma papere Alessio, ma questi sono dei giganti. Sì, certo, perché San Francesco non è un grande. Materina da Siena non è una grande, Brigida di Svezia, il de Garda di Bingen. Quanto patrimonio di civiltà, di cultura prima dello scisma c'è e che è perdurato anche in qualche modo in occidente. Poi è avvenuto una tragedia, è avvenuto che la grecità dell'Italia meridionale, ciò che restava quindi la popolazione, il basso popolino, contadini, pastori, mandriani, artigiani, i preci delle parrocchie rurali, cosa dovevano fare? Si sono visti presi dai turchi, perché sono arrivati questi vichinghi, i quali hanno imposto il loro dominio. Ma essendo dei vichinghi francesizzati, non ne capivano niente di religione, però sapevano che c'è una persona che ha grande autorità in occidente, al quale bisogna ricorrere per essere ricordato il papa di Roma. Quindi il patto di Nefi, se io caccio i musulmani dalla Sicilia, di là è la corona. Perché no? Poi un'opera meritoria. Quindi la Sicilia è stata liberata dai musulmani, ma è caduta dalla padella nella braccia, perché è caduta in una tradizione che il popolo non conosceva. Per cui la popolazione greca era governata da mescovi, latini, che venivano dal nord della Francia, i quali erano dei grandi signori feudali, il modello era quello. Per cui ci fu un fuggi, fuggi generale dai monasteri, dagli eremi, perché dicono ma chi è il nostro superiore qua? Chi è il nostro patriarca, il nostro vescovo? Un laico vestito con la mitria pastorale, come nel cielo pasquale di Monreale, è Ruggero, è il re. Ruggero vestito da vescovo perché ha la legazia apostolica. Voi capite che per gli bizantini era un orrore indicibile. Non lo potevano dire perché sono dei grandi signori. E quindi hanno fatto di necessità virtù. Allora, grandi strateghi. Io raccolgo e proteggo tutti i monaci greci, dice prima Franco, e li metto sotto la guida di una persona in signe, ce ne erano tanti, no? San Luca, Archimandrita, un calabrese, discepolo di un santo che era stato a Costantinopoli, queste grandi figure. Ma San Luca non voleva. No, 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 sì, devi farlo. Bastone e la carota. Padre, ti prego, per favore accetta. San Luca scrive nel suo tipicone. L'autorità del re è difficile, ci ha imposto contro nostra voglia di, vorremmo potere, ma li ha coperti d'oro, ma gli ha detto guai a voi se tralignate, cioè voi potete fare la vostra liturgia, però chi comanda qua sono io. Quindi l'obbedienza la dovete a me, non all'imperatore di Bisanzio, perché se no siete dei traditori, le sua maestà. Voi capite i monaci come possono rinnegare l'imperatore, il patriarca di questo attimo? Potevano. Cosa è successo? È successa una tragedia. Si è adeguati per il momento a una situazione, a un male minore, è nato l'uniatismo. Si sono piegati ad accettare l'autorità del re civile e del papa di Roma, con cui ci sono già, ma almeno anni, almeno cinquante, uno scelma. E che facciamo? Come fare a risolvere questo problema? È la scomunica reciproca. Cosa dobbiamo fare? Non abbiamo vescovi. Pazienza. I protopapas, i preti faranno i nostri parroci, gli altri preti. I monaci fuggi, fuggi. Chi resta nei monasteri? Chi non ha niente da perdere? L'anziano malato, il sacrista, non so, il mugnaio che adesso può dormire nel monastero anziché nella casetta fuori, ma il mugnaio si porta la moglie, si porta i figli, si porta la mamma anziana, sono tutti nel monastero. Quando c'è la figlia ditta canonica di Atenasio Catiopulos dice che ci sono le donne, ma non è che facessero, chissà, erano i poveri contagini nei monasteri. Perché? Perché lì c'era l'acqua, c'erano le mura, c'era il portone, c'era il magazzino. I monaci se ne sono andati, se non sapevano leggere. Beh, l'altro giorno mi ricordavo che per fin i monaci dell'Atos, nel settecento e dell'ottocento, non tutti i monaci, era bassa la percentuale di chi sapesse leggere il greco, no? Il monaco va per pregare, il Signore non vuole fare il letterato. Io ero affascinato da questo mondo e così ho pensato, ma perché no? Ma perché non posso? E allora ho bussato alla porta dell'unico istituzione che ha almeno una memoria, anche se ormai è scomparso il monachesimo, il palo greco è finito. Il resto sono soltanto utopie, io non sono nulla. Ho chiesto, ma posso? No, mi è stato detto. Cosa devo fare? Come avramo? Esci dalla tua terra. E sono tornato in Sicilia dove alcuni ecclesiastici mi hanno accolto e ho fatto l'eremita, aspettando che venisse Godot, ma è arrivato perché sono venuti i monaci dall'altro dicendo ma che fine ha fatto quel monaco che conosce la tradizione meglio di noi? Ma sì, fatelo venire, padre, vieni perché abbiamo bisogno di te. I monaci dell'altro mi hanno chiamato, dicendo padre, guarda, abbiamo bisogno perché tu sei un po' il predigno. Io non sono niente, io sono soltanto un pio cristiano, l'avventura di un povero cristiano, direbbe Ignazio Silone. Ma la differenza che mi hanno usato è stata tale che hanno deciso di appoggiarmi perché non solo in Calabria ma anche in Sicilia ci fosse questa piccola candelina, questa mia presenza minuscola. Io non sono nulla, sono un povero monachello che prego il Signore perché sono innamorato di Gesù Cristo e della sua Santissima Madre, se non bisogna mai separare perché sono inscendibili. E siccome tutto questo immenso patrimonio di civiltà, di letteratura, di cultura, di arte, di fede, mi risuona, mi ribolle dentro come a tutti i cristiani dell'Oriente, sapendo che l'Occidente ignora questo mondo, mi rammarico e dico ma perché no? Ma perché come fare a farlo sapere? Come risvegliare nell'Occidente la memoria di un passato? i papi greci, la letteratura, i testi, immenso flusso di cultura. io sono solo un povero monachello che studio ancora oggi perché sono molto ignorante. Poi Bisanzio è un mare magnum infinito dove ancora oggi spuntano giovanotti, ragazze che studiano filologia e vengono fuori pubblicazioni di testi monospiritti occidente, oriente. io dico forse c'è speranza per il futuro ma il mio rammarico è che la mia terra, il mio meridione, il nostro meridione, ignori questa identità. Nei libri di storia, nell'insegnamento, si passa dal tardo impero, i vandali, la riconquisto di Giustina e si passa subito agli arabi. ma dico non hanno fatto nulla. Perché mai i normanni hanno fatto delle chiese latine con mosaici bizantini? Perché nel loro immaginario Santa Sofia era il modello, la chiesa cristiana deve essere quella. I più mosaici, Venezia, Torcello, Ravenna, Roma, la Sicilia. io sono solo un povero monachello che è innamorato di questo immenso patrimonio e ho pensato di dedicare la mia vita. Ormai ho 70 anni, 80 se ci sono le forze, dice il Salmo. Non vedo l'ora di andare di là perché c'è il Signore di là. Meno male, quindi troviamo tutto. Però capisco che si spegne. Si spegne. Ogni tentativo non riesce a fare breccia per una riscoperta. Perciò esistono queste istituzioni serie, grandiose, veramente a un livello planetario mondiale che in Occidente la Santa Chiesa vuole promuovere. Se questo può servire come come dire un piccolo ricordo la memoria, oggi sono qui domani potrei non esserci più, ma altri possono, devono. So che si organizzano gli amanti di accompagnare i visitatori a vedere queste memorie stupende che abbiamo. Roma è piena di memorie antiche, no? Che sono comuni alla Chiesa indivisa, dalle catacombe in poi. Non solo Grotta Ferrazia che ha avuto il privilegio di questo straordinario, l'unico monastero italiano-greco che si è salvato con tutti gli adattamenti e le vicende perché 70 anni dopo la morte di San Nilo già i monaci sono di scappare a Subbiacco perché i soldati arrivavano Federico e quindi è durata poca, poco identità bizantino. Poi loro stessi non capivano più cos'erano, non sapevano se erano Chiesa romana, dovevano citare in greco, ma il Papa di Roma fa il latino e quindi si tormentavano, ma noi cosa siamo? E così è successo anche per l'Italia meridionale, lentamente, lentamente tutto si è spento. Non sempre i prelati occidentali sono stati attenti a preservare questo patrimonio, qualche volta lo hanno proprio positivamente distrutto perché ritenevano che fosse una forma aberrante di identità religiosa, non si rendono conto del disastro che hanno combinato. Cosa resta? Beh, resta la fede comune intanto, che ci unisce, la Chiesa, gli apostoli e tutti i santi che restano i problemi, problemi teologici da affrontare, problemi ecclesiologici da affrontare, problemi di identità per l'Europa. Resta anche la preghiera. Per fortuna Dio c'è. Santa Chiara diceva San Francesco quando è tornato dalla Terra Santa, era deluso. Francesco, Dio c'è. Gli ha ricordato A, B, C, Gli ha ricordato l'alfabeto. E allora lascia che sia lui a governare il tuo movimento se non è come tu l'avresti voluto. Certo bisogna invocare. Ecco c'è una cosa, una missione di un religioso, un cristiano, un monaco è un cristiano, un semplice cristiano. Siamo dei più fedeli, diceva San Pacomio con i suoi monaci a Sant'Atanasio. Padre, hai il potere perfino sui nostri corpi, noi siamo due figli, il vescovo, l'apostolo. Il monaco deve pregare, anche i laici devono pregare. Tutti dobbiamo pregare, se non si prega. Chiediamo e affidiamo alla divina providenza, questa, i destini della cristianità che oggi è attraversata da una crisi eputale, forse non c'è mai stata. Ricordo espressioni uscite dal Papa Polacco, che ho avuto la benedizione di accostare tre volte da vicino, in privato. C'è una inarrestabile, deriva, un'apostasia inarrestabile della fede. Forse il Signore lascia che la sua Chiesa si purifichi, che resti soltanto il grano e non resti sia soffocato dalla didamia, ma per un italiano come beh, un siciliano, un meridionale, un credente che conosce e si rende conto dell'immesso patrimonio di civiltà che il cristianesimo ha prodotto, la prighiera è accompagnata dallo scomento, forse dalle lacrime, dalla supplicato. Quando il figlio dell'uomo tornerà sulla, troverà ancora fede sulla terra, io penso che ci penserà a lui, siccome sono monaco, devotissimi tutti, monaco, e ci penserà alla Santa Madre di Dio, sì, questa si metterà le cose a posto. Grazie. Due cose soltanto, ringrazio padre Alessio che ha parlato con grande cultura, cultura non è sfoggio di erudizione, è far parlare il cuore, che non è un organo muscolare, ma avete visto come da Pitagora a Parmenide, giù fino a lui, no? Questa continuità dell'Italia meridionale, al di là dello spazio e del tempo, voglia dire la possibilità di scrivere magari diversamente anche la storia della filosofia. Sono cose interessanti. La seconda è più semplice, ma più profonda, quando parla di questa centralità da parte dei suoi fratelli nei riguardi del figlio dell'uomo, Gesù Cristo crocefesso risotto. Questa è l'identità del monaco, nient'altro di questo, se no la liturgia, come mi hai detto tante volte, sono soltanto barbe e incensi. Detto questo, se siete d'accordo, sono le sei e dieci? Io proporrei un venti minuti di domanda da parte vostra, se c'è qualcuno che voglia, così con semplicità, porgere qualche domanda al caro Padre Alessio. C'è qualcuno? Generale, prego. C'è qualcuno che ha espresso, che è molto attuale. Mi ha parlato del giudizio, anche inizio, è la fase di una settimana del giudizio dell'uomo, che arriva nel giudizio dell'uomo, che però procede per come avessere la finalità del giudizio, che può mangiare. In questi tempi, forse una repressione su questo concetto, sarebbe molto confuso a questo punto. Vedete che il suo momento, sui dati, sui dati, sui dati, sui dati, sui dati. Bene, abbiamo colto. Vogliamo procedere con questo metodo che è molto universitario. Raccolgo tre, quattro, cinque interrogativi e poi facciamo sintesi complessiva. C'è qualcuno dei giovani? C'è Lorenzo, Lorenzo è presidente del GAL, nostra attività culturale a Grotta Ferrata, veramente lui, con gli amici che ringrazio, tiene ancora viva questa realtà dal punto di vista del coro, eccetera. Prego, Lorenzo. grazie. 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 Grazie a tutti. ma tutti gli altri hanno nel loro quotidiano anche nella cucina abbiamo riscontrato anche negli orti i pronti potallici che hanno cercato di valorizzare le culture tra l'acqua l'acqua, l'acqua, il lavoro però quello che stiamo cercando attraverso l'attività di percorrere e far crescere all'interno di queste comunità come vado avessi appena sottolineato questi valori e questi contenuti perché Grotta Terrata è l'intimità e c'è stato anche poco però l'eredità portogliare è arrivata a scontare è arrivata a Calandra è arrivata a Calandra quindi è una sfida e poi sono i locali che devono raccontare questa storia devono ereditarla e ritornetterla e questo è un po' quello che è il suo apporto dallo sentimento padre e che ci dà un positivo ragione in questo momento di rispondere per capire tutti e di interpretare di raccogliere un'attività materiale e materiale e grazie a tutti per aver seguitato e ringrazio tutti voi per questa possibilità e come avete detto bene ecco perché padre Alejandro grazie Lorenzo grazie a tutti grazie a tutti Per sapere che questa vita, questo cammino, che alle volte sembra tragico, non è tragico, ma drammatico, dunque, che ha un posto, però che bisogna guardarlo ha un futuro. Sappiamo che il peso è più grande di quello che si può guardare nel video del video. C'è qualche altro intervento, fratelli? Intanto vorrei rispondere a queste tre osservazioni. Mi piace che il generale sia andato, ma sì, la spiritualità nella gente c'è ancora, ma curiosamente il clero non la coltiva. Perché? Perché sono stati, come dire, proposti modelli culturali che prescindono dagli interlocutori. C'è un modello, come dire, mentale, no? Non so, la parola, la parola, la parola, la parola, no? Ma noi non siamo il popolo del libro, scusate. Noi non siamo né la Torah, né l'Islam, il Corano. Noi siamo il popolo di una persona viva e vera che Gesù Cristo risorto è presente nell'Eucaristia. Scusate, certamente dobbiamo dialogare con i nostri fratelli protestanti, con ciò che hanno in comune. Ma il panbibilismo non fa parte della storia del cristianesimo di origine apostolica. È una proiezione immaginaria dell'Europa medievale. Purtroppo, dovendo eliminare, togli questo, togli quello, togli... Cosa resta? La parola. La gente ha duemila anni di storie, di tradizioni, di devotione. Ho sentito il rettore che parlava. Giugno è tutta una tradizione dal Cinquecento, dal Seicento, alla scuola francese, al cuore di Gesù, come esternazione, no? Di un cuore di carne umana che palpita per noi. Ma non si può distruggere questo, perché quando si fanno pulizia, se c'è da fare in una casa, non è che butto dalla finestra tutta la superlenti nei mobili, poi mi siedo per terra, perché non c'è più nulla. Si tratta di mettere ordine. Nel meridione c'è una grande devozione, però al pretto non interessa, perché probabilmente nei seminari, nelle scuole, non lo so. Io ricordo quando frequentavo che c'era battaglia sull'identità di Cristo, se no, cristologia, debole, se Cristo aveva coscienza. Mi ricordo, signor Parente. Io ricordo un bambino, c'era una processione estiva, dalla chiesa dei orionini esce l'immagine della Madonna, bella, devota, con i fiori e poi con il meridione. E cioè le luminarie, la banda, i fuochi d'artificio, le campane, tutta quella esternazione, bisogna fare rumore. Una marea di gente devota. Io ero bambino, guardavo l'immagine, ho sentito un urlo. Lo dico sempre questa cosa. Ve la dico in dialetto siciliano. bella, con la palatale indiana, indoeuropea. Una donna vicino, davanti alla Madonna, gli ha detto quanto sei bella. A me è sembrato allora bambino, no, una buttata. Poi guardo l'Evangelo e sento, mentre diceva questo, una donna alzò la voce dalla folla e disse, beato insieme. e dico, guarda, è la stessa cosa. La cultura mediterranea ha queste esternazioni, soprattutto nei confronti di una donna. Ma perché distruggere questa identità? Il problema è come fare per conservare. Perché? Perché forse andando a cercare la spiritualità antica si arriva alla spiritualità dell'Oriente cristiano e bisogna fare i conti con una realtà che ignoriamo qua un po' il problema. San Nilo è forse la più grande, la più complessa figura di Ascetta, Italo-Greco. Per fortuna è stata salvata il BIOS in un manoscritto incompleto, immaginate quanto interessasse, no? Ma miracolosamente si è stata. Non è la figura che ci è trasmessa, è trasmessa l'ABAT, fondatore, un uomo migrino, di fuoco, il profeta Elia, vestito con una pelle di capra addosso, sulla pelle nuda, piedi nudi, unghiettante, capelli sciolti, per 60 anni non si è lavato. Perché a lui non interessava niente di niente, a lui interessava Gesù Cristo, come il Battista nel deserto. siccome era un uomo di Dio, la gente lo segue come San Francesco, no? Veniamo anche noi. Lui non è mai stato superiore di nulla. Lui era una scettia, gli altri guardavano come faceva lui, facevano come lui. Quando lui si accorgeva che le cose non andavano, prendeva il suo santerio e scappava. I monaci capivano al volo, corri, corri, scappa, scappa, prendi a ferro e lo seguivano muti, stiti, perché sennò ci sono legnate. Perché lui diceva volete fare così fate? A Valleluce, i benedettini, Beato Aligerro, un santo abate, piantano le vigne, ma dopo c'è il vino, i soldi, e si sta bene. I monaci non devono stare bene. Non è che siamo un'azienda agricola, vitivinicola, con il vino dei castelli romani. Un mattino ha detto prendete le roncole e da l'ora sesta a l'ora nona, per tre ore, hanno tagliato tutte le vigne che... E lui aveva detto se mi obbediscono sto, se no andate a quel paese tutti qua, tutti muti, la notizia, arrivo, l'itinerario. Certo, molta gente non lo sa, soprattutto nel clero. Non ti interessa, perché qui è San Gennaro e lì è San Bonifacio. Non ti interessa. Perché? Perché manca di spessore culturale. Per questo ci sono le università. Dicevo, cultura e spiritualità. Lo diceva il Papa Santo Polacco. Se non c'è spessore culturale, la religione diventa bigottistica. Se è possibile, San Nilo forse non è mai venuto a Grotta San Agatha. È venuto spesso, è arrivato sfinito a 95 anni, il Conte di Tuscolo. Se fosse possibile, sarebbe un'opera meritoria davanti a Dio, ricuperate Sant'Agatha. Le rovine che sono ai piedi di Tuscolo in mezzo alle erbacce. L'Alamo Lara. Fate pulire e che quelle pietre, un cartello qui, la sera del 23 settembre, si spirò il grande Nilo di Rossano. Quelle pietre. Infatti è un recinto dove si mettono i fiori. San Nilo si è spento là. Poi certo, Cuscolo, Bartolomeo, Beato Paolo, Beato Cirillo, hanno continuato perché lì è interessante San Bartolomeo. e me ne ti paradossi in paredo che nì. Per favore, diceva i monaci, rimanete fedeli alla tradizione che vi ho dato. Non cambiate. E poverina ha dovuto cambiare perché non capivano. Ah, se è possibile tutti gli itinerari, perché no? Che da Grottaferrata debba partire la proposta che dove ci sono memorie storiche sia possibile fare dei sopralluoghi, fotografare, documentare, smuovere le amministrazioni comunali, chiedergli permesso ai privati, di poter fotografare, entrare assessori, proloco, eccetera, cominciare a risvegliare questi itinerari perché non solo, ma quanti la Calabria, la Sicilia, la Lucania, il Cilento, la Puglia sono pieni di queste memorie. La speranza. Certo, noi sappiamo che la vittoria di Cristo è garantita. dovesse capovolgersi il mondo, no? Dovessero i monti sprofondare. Gesù Cristo vince. Non ci disculpe, il problema siamo noi. Sperremo buttati via perché inutili al progetto di Dio. La barca, la chiesa, va avanti, siamo noi che cadiamo in mare. Ma arriverà a Palosia, il Signore lo ha detto, l'ho detto, lo farò quante volte. Non vuol dire che non si possa verificare il caso che la fede quasi si stenga. Perché non abbiamo lavorato? Perché abbiamo paura di dare la vita per Gesù Cristo, di morire ammazzati per Gesù Cristo. forse qualche cosa che è successo in Europa con il santo prete e altri è come dire guardate che il Signore si aspetterebbe anche questo. Non solo Giovanna d'Arco. Io pensavo a questo drammatico episodio della una ragazza di 19 anni la quale fa un'azione che uno dice ma questa o è una strega no allora è il Signore che la manda. No, non può essere perché non è politica il ricorre il re disonesto l'ha abbandonata. Cosa è uscito di bocca a questa ragazza di 19 anni? Vescovo per colpa tua io muoio. Un laico dice al suo un laico dice al suo pastore disgraziato ma tu cosa hai a che fare con Gesù Cristo? No? È una santa canonizzata e siccome morendo Gesù Gesù no? Cos'è rimasto di Giovanna d'Arco? Lo dice il cuore era intatto gonfio di sangue pulsava il povero boia bestia ha preso e l'ha buttato nel fiume. Ma questa è la cristianità non merita i suoi santi Dio manda i suoi santi i suoi profeti ma il suo popolo venne tra i suoi ma i suoi non lo hanno accolto. Io non so cosa vuole il Signore dagli altri chiedo cosa vuole da me questo sì ricordo da bambino quando ero ragazzino che avevo le chiavi della chiesa a Milano la chiesa ha chiuso tutto c'era la luce e la sacristia poi io mi incinocchiavo e dicevo Signore sei tu l'unico mio bene non l'ho mai cambiato per me il Signore è l'unica cosa quando mi sono fatto religioso e ho visto cosa succedeva ho detto Signore io per te non per altro non mi interessa niente quando sono dovuto uscire e c'ero sgomento da solo dico ma cosa vuoi da me Signore no? pianti lacrime no? ma io per te dimmi quello che devo fare che io lo faccio il Signore mi ha condotto sono abbandonato ancora adesso a 70 anni la depressione attacchi di panico la fatica per tenere pulito il fisico non mi aiuta qualche volta alzandomi dal letto per andare in bagno sono caduto sono scivolato con la faccia con tutta la faccia c'era più boom ma nel buio dove era la luce cosa faccio? accetto se sei tu che lo permetti accetto tutto devo morire? va bene però devi deciderlo tu accetto che potrei sentirmi male e se ne accorgono dopo tre giorni quattro giorni ma bene qual è il problema scusate non nasciamo per andare incontro al Signore qual problema allora grave è che noi non crediamo più a Gesù Cristo allora ho finito la mia missione apostolica posso tornarmene in Sicilia ma anche là a tutti lo dirò voi non credete a Gesù non sapete quanti preti cattolici vengono a confessarsi la disperazione poverino ho un grande deferenza incoraggio tanto che tornano con te quanta gente suona cosa succede? si accomodi cosa succede? lei va a messa la domenica? sì tutte le domeniche? no qualche volta allora che vuoi? scusi scusi a me si va la domenica tutte le domeniche crolli il mondo due sole eccezioni poi la febbre a 40 non ce la fa c'è un terremoto con l'ora non le chiese allora puoi stare a casa tua se non vai non pratichi il cristianesimo non ricevi la divina grazia non preghi la Madonna non leggere la scrittura vengono per esorcismi anche altri preti mi hanno chiamato in Italia padre venga ma cosa fai? non prendi il Signore ma tu vuoi posso darti secchiato in acqua sei tu che devi andare dal Signore e dire Signore aiutami accetta di soffrire per l'amore accetta di soffrire il sconto di tutti i dati cosa vuoi che io dica io sono un monaco cristiano posso dirti solo così fate penitenza convertitevi credete al Vangelo cosa vuoi che ti dica faccio la psicanalisi non è il mio compito faccio la psicologia ci sono i medici io ricordo dai medici la medicina è una cosa seria ma qui manca manca tutto ma tu vuoi vedere il Signore? sì come no si vede come accetti scusa come vai in casa? da quanti anni siete litigati? non ci parliamo ma col demonio in casa che cosa vuoi da me? vita cristiana non ce n'è non ce n'è ogni commento è inutile io voglio ringraziare c'è ancora? volentieri? abbiamo c'è sì c'è c'è l'amico Francesco sì e poi e poi grazie ai tecnici io io tiro le fila di questo bel incontro e poi il frattino si portava la parante a chiesa e su le scorte di monaci creci in queste chiese non è diventato un santuario e il frattino si è impiantato ora è una cosa molto bella è l'unico paese dove non ha il disco di un'idea è l'unico paese in cui la gente quando i primi hanno organizzato di smontare il santuario si sono interlati qualcuno li ha presi li hanno presi ora volevo fare un'altra domanda quando recito il padre nostro lo recito il latino oggi perché come mai tanti traduttori tanti teologi e poi formati al tuo insegnamento possiamo dire una cosa che quella innovazione che hanno apportato rispetto al invece non è stata apportata in latino io penso che sia una chiave di lettura anche questa questo desiderio di modernizzare adattarsi non si stupisca del fatto che nella cristianità ci siano opinioni e pareri e tentativi di ridire fa parte del cammino della chiesa se siamo figli obbedienti della chiesa accettiamo tanto per fortuna il signore capisce ma non male no? noi preghiamo e preghiamo insieme se dobbiamo pregare insieme usiamo una formula comune perché se ne usiamo tre o quattro è finita i nostri pastori cercano di fare quello che ritengono opportuno può anche essere che sbaglino non lo so dovremmo pregare di più per i nostri pastori perché non sempre le decisioni prese dai concili come ci sono entrate immediatamente ci sono state generazioni di lotte di incomprensioni perfino tra santi che non si capivano finché si è arrivati a esplicazio terminoro si non vuole pregare in latino perché no possiamo farlo anche adesso no? anziché in greco il pater nostro c'è la chiesa di Roma no? o l'ave maria eccetera lei non non si meraviglia gloria a Dio e pace intera agli uomini di buona volontà che gli ama il suo bel sì certo ma nemmeno ave piena di grazia no? è fiere cioè shalom no? quel piena di grazia grazia no? il pane quotidiano non è quotidiano no? eccetera è iperruzio no? è un apax legomeno quanti di queste espressioni se siamo in privato uno può esternare come vuole se siamo a messa beh che la preghiera sia comune almeno in quel caso non importa io vado in casa delle persone io mi adatto a quello che sento dire no? le persone anziane o i bambini non mi impongo non contraddico perché se no credo scompiglio no? si tratta di una economia no? se possiamo poi se siamo colti possiamo esporre il nostro pensiero perché l'università è un incontro di no? una tesi un articolo documentato dove uno dice a proposito della recente eccetera mi pare opportuno altri leggono rimattono controbattono si chiama dialogo perché no? certo i preti le hanno prese non non si meraviglia spesso il prese è un ministro del culto non è un angelo in terra con tutte le difficoltà le debolezze e le fragilità che può avere San Francesco aveva il suo caratterismo e non tutti lo sopportavano Santa Teresina di Gesù Bambino diceva con sorelle avevano una spiritualità molto penitente perché pensavano che la Francia si stava scristianizzando per colpa dei crei quindi si si lei diceva no secondo me è un'altra cosa che Gesù vuole da noi è normale questo San Teutimio il grande padre del deserto era molto era un anerotono un po' come San Nilo era bassino ma era un uomo di fuoco ha riportato il monachesimo egiziano di Antonio nella Palestina delle lauree eccetera ma era molto severo anche duro nella scelta delle vocazioni spesso diceva vieni vai lì vai vai prendi le tue cose vai no si transigeva uscìvano pianti no San Saba e su dicevano dicevano vieni 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 padre mi ha buttato qua vieni lo prendeva lui due caratteri due strategie diverse si tratta di pedagogia di sensibilità San Nilo era un uomo che voleva stare solo non voleva vicenda attorno a sé Beato Stefano ne ha brincato lo sgabello con due piedi immaginate era il sonno quante volte è caduto ha fatto solo con Beato Stefano però non è che con tutti i monaci facevano gli sgabelli era la sua strategia con questo calabrese che gli è stato vicino sempre ha accettato tutto anche quando non era colpa sua era qualcun altro chi è che sta russando sicuramente Stefano Stefano gli altri sapevano una sua sensibilità quando è morto poi piangeva sono il tuo carnefi è la sensibilità è il carattere delle persone che c'entra le persone non hanno accettato solo Gesù Cristo è impareggiabile lui stesso quando i discepoli si litigavano le mettetela no? perché vi litigate? no? noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo non idolatriamo i ministri del culto ah questo è bravo come pratica bene ah questo ah questo ma il protagonista un po' i gruppi ce l'hanno questi ah questo è il nostro carismatico tutti sono carismatici perché tutti hanno lo spirito santo e tutti confessano i peccati e fanno scendere lo spirito santo sulle carità quindi veramente devo 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 chiudere ma lo voglio fare senza fretta allora io ringrazio i tecnici perché qui ho un messaggio in questo momento che bella questa conferenza Carmelo poi da Meridionale questa volontà di riscoperta quindi ci hanno seguito il mio amico dell'ordine di Malta l'ingegnere Iannone sono contento di questo poi ringrazio ringrazio Ivan Daniele ringrazio Diego ringrazio Pablo ringrazio padre Alejandro ringrazio Celso andiamo a trovare padre Alessio andiamo a trovarlo per chiedere il permesso ai superiori non bisogna chiederlo partiamo pago io vi invito nuovamente se potete acquistare copie di questo libro lo dico con con parresia che cattolicità quando lui parla di Santa Giovanna d'Arco di San Francesco qui veramente la chiesa la chiesa è indivisa è una grande una grande cioè sto problema di oriente e d'occidente ma finirà questa 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 incomprensione mi prendo l'impegno vero Diego Raffaele Enzo qui siamo in università di curare anche il modo attraverso finanziamenti vedremo di dare una veste a questo testo sui Santi Italo Greci questa è l'edizione nuova vero ancora nuova insomma perché merita pensate che oggi per esempio è Santa Oliva di Palermo Partenomartire c'è tutto un calendario lui ha curato proprio che il Santo vada pregato nella comunione dei Santi questa è la penultima cosa l'ultima visto che siamo alla fine dell'anno di Dante in qualche modo io termino sempre allora Dante all'inizio del trentatresimo canto del Paradiso vede il libro ma non è l'ultima parola di Dante perché alla fine dentro il centro mezzano che è il nostro Signore Gesù Cristo Dante vede Dante e vede Beatrice cioè la religione cristiana è la religione del verbo fatto carne dove tutte le devozioni popolari lo diceva San Giovanni Paolo II le pietre i santi le storie persone con arterie con vene con palpiti con lupi con certezza come le mine perché è molto importante l'uomo sono appartenenti a colui nel quale come dice Paolo Colossese mi pare abita corporalmente la pienezza della divinità Doppleroma Test Teotitus siete sentati da fare esercizi spirituali magari in questo mese voi perché ne avete fatti a sufficienza qui chiudiamo con la preghiera diretta da padre Alessio che ringrazio insieme a Denzo a Raffaele e a Diego veramente di tutto cuore ringrazio voi della vostra partecipazione facciamo la preghiera allora che un monaco che dipende dal patriarcato di Costantinopoli abbia Roma antica Roma concluso con una preghiera in latino dopo aver cominciato con una preghiera in greco siamo contenti con una preghiera appare con una preghiera con una preghiera